ed ecco il castello il castello del bosco lavoro di picchi e termiti il città attraverso Sono nel bosco vicino a Sogatok Reservoir e qui uno dei muri che separavano i pascoli durante gli anni dei coloni, del 1800 fino al 1900 e qui il bosco è tutta la zona di Pascolo. Adesso rimangono solo le mura piena di muschio a ricordare la vita di quei tempi.